Bella ragazzi e bentornati in un nuovissimo episodio Allora, allora, allora Prendiamo delle... Quali erano quelle potenti? Le Sturdy Wings Sì, le Sturdy Wings, ok Prendiamo le Sturdy Wings Perché questo sarà un episodio di Svulazzamendo Svulazzamendo Perché è notte qui Perché è notte, non dovrebbe essere notte Ah, ecco, bravissimo Di Svulazzamendo Perché qua abbiamo un casino di roba Ma anche se qui c'avevamo la meganave Che tra l'altro io non... Eccola qui Quindi potremmo andare qui Mmm, quasi 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 Facciamo... Facciamo una bella cosa Facciamo una bella cosa, allora Allora, prendiamo i boot di Diamond Ok E ce li mettiamo... No, non ce li mettiamo Ce li teniamo solamente Allora Abbiamo preso le Sturdy Wings Le Sturdy Wings La meganave non l'ho segnata Eh, porca troia Va, il Dungeon Lich Lo possiamo togliere Zelda Chest La Zelda Chest Aspettate però Allora, 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 allora Fermi tutti Zelda... no Key La Small Key Di Zelda Sword Skills Allora Andiamo innanzitutto Alla Zelda Chest Perché dobbiamo vedere se... Che... Cazzarola C'era un Creaver proprio lì Maledetto Allora Innanzitutto Io metterei una torcia qui Poi vediamo se si apre questa Perfetto Ed abbiamo una Zelda Chest Dove c'è una letter... Uh, una lettera dalla principessa Zelda Una Ordone Sword Più 7 Più 9 Mmm Forse è meglio quella E io tornerai immediatamente a casa Perché? Dobbiamo vedere innanzitutto Che cosa abbiamo preso La lettera di Zelda Vediamo un po' che cosa dice Ok, non... Dice... Cazzo Bene Abbiamo la lettera di Zelda Che forse serve per sbloccare qualcosa Non lo so Nel frattempo Piliamo e buttiamo tutto dentro Green Potion Ah, buona Questa spada Secondo me È peggio di questa Anche se questa la dobbiamo ancora inciantare Quindi Allora, quello che volevo fare io Adesso era Arrivare dove stava Dove sta questa nave Quindi dobbiamo andare Esattamente A Ad ovest Giusto Do cazzo sto io qua? Sì, se andiamo sempre ad ovest La becchiamo Quindi Vai con i Cloud Boots E andiamo a farci un giretto lì alla nave Abbiamo le ali Quindi possiamo tranquillamente volarci sopra Ed attaccare Gli abitanti di quella Di quella nave Gli occupanti di quella nave Direttamente dall'alto Quindi Io ho i Cloud Boots Quindi vado tranquillo Bello, beato Anzi, visto che c'ho Fermi tutti Attenzione Non possiamo mica lasciare Dei diamantucci Qui così Tranquilli Uh, che figo Passo attraverso Allora Dicevamo Dobbiamo arrivare Dove sta quella nave Ma io sto andando a nord Ah no, sto andando giusto È la mappa che è storta Vabbè Comunque sto andando giusto E Ovviamente ho poca Poca armatura Perché ho Sia i Cloud Boots Fermo lì Questo Locked Wooden Chest E cazzarola Io però non c'ho le chiavi E cazzarola Allora Eh, new Si chiamiamo pirati Ma quella è una cesta Dei pirati Quindi La andremo poi Ad analizzare Io voglio andare A quella barca E vedere Se mi fanno il culo O meno Un'altra tomba Cazzarola Che pieno di tombe E qui Dovrebbe esserci Un altro posto Con il tesoro In teoria No Perché no? Strano Perché non c'è? Mi suona un po' strano Vabbè Ah, qui c'è un'altra tomba Quindi in teoria Qua sotto Dovrebbe esserci Penso Eccolo qui E qui abbiamo Abbiamo un altro SGS Treasor Quindi anche qui New Tesoro E adesso basta Perché altrimenti Non arriveremo mai A quella nave Oh, e lì sopra Cosa c'è? Cosa c'è lì sopra? Quello è da vedere anche Ah, c'è anche Del diamantino sotto Ma no Basta Ad essere distratto Da questo mondo Strapieno Di roba Perché è veramente Stracolmo È veramente stracolmo Io voglio andare lì sopra E vedere se mi fanno il culo loro O se glielo faccio io Innanzitutto Togliamoci i cloud boots E voliamo fino a qui Ok Mi devo immediatamente Mettere la plate Ok E adesso vediamo Un pochettino Se questi sono cattivi Sono dei pirati Innanzitutto Io ho una mega spadona Quindi Ecco Quello già se ne è scappato Perché già ha capito Come Come era l'andazzo Questo è un blocco di iron Che Voglio dire Un altro blocco di iron Già mi piace sta cosa Tra l'altro c'è una chest Nascosta qui Con una crack and shell Block of gold Un'altra diamond Great sword Grande Grande Io adesso però Non ho più I cloud boots Quindi non posso più Saltellare come Questo è buono Pure per piarsi il legno Alla fine Qui c'era Esatto Avevo visto un altro Chi sei Chi sei Sei talmente Sei talmente morto Che non hai fatto a tempo Neanche a picchiarmi Oh altri cloud boots Sender pearl Flint duster A mining tool Non so cos'è E un'altra diamond Great sword Fantastico Fantastico Siamo entrati Siamo entrati Vediamo un po' Dove sono i nemici Forse sono nell'altra stanza Io nel frattempo Questi blocchi di iron Me li rubo Sani sani Perché questi sono tutti I belli ingottazzi Di iron Che non fanno altro Che Farci comodo Quindi non possiamo Lasciarli qui Perché è veramente Uno spreco Quindi venite da papà Ma qui ce n'era un altro Infatti Bello Mi piace questa nave Fatta con questi materiali Ultra rubabili Fantastico Me gusta Me gusta Quanti ce ne siamo fatti Matonna 15 blocchi di iron Direi che per iron Siamo a posto per tutta la serie Con l'iron Ok Dopo aver depredato L'iron Qui vediamo intanto Se c'è qualcosa Di più interessante No Questa è tutta lana Fanno le navi In lana Vabbè Vediamo dove sono I mostriciattoli E lì ci sono degli spawner Questi che vogliono fa Ma che cazzo Volete fare Raga Cioè Accettate i vostri limiti Per favore Questi non so Se sono one time Ok one time Quindi questi Una volta spawnati Non spawnano più Non sono degli spawner Che continuano poi All'infinito Quindi Andiamo da quest'altro lato E probabilmente Avremo una cosa speculare Credo A quella che Avevamo di là Oh la morte di tua mamma Che rompicoglioni Che ogni volta appare Oh 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 Pezzo di merda Mamma quanto è stronzo Mazza quanto mi hanno tolto Oh No Vabbè Non morirò Non mi Non morirò Di quello Che mi hanno Che mi ha mischiato Quella morte maledetta Dai non posso morire così ragazzi Cioè Non scherziamo Cioè Ma stiamo scherzando Basta Porca droga Mi ha tolto quasi tutta l'energia Sto stronzo Cioè Incredibile Quella morte maledetta Allora io stavo andando qui sopra Ma devo aspettare di ricaricarmi Prima perché a sto punto Che ci sta qua sotto Aha E ovviamente sta per fare notte Il che non ci aiuta Quindi prima che cominciano a spawnare i mostri a random Mettiamo qualche torcia che Nel frattempo che Non ci riprendiamo Vabbè io penso che Comunque possa andare Qui abbiamo la stessa cosa Praticamente No è diverso Andiamoci da dietro Facciamo un attacco stealth Aha Ok mi rimani a guardare La serie Ops Ok Vediamo un pochettino come è qua Guardate com'è romantica la cosa Che cosa ci abbiamo qui sopra Oh non ci sono i blocchi belli come Dai però è una figata Cioè è bellissima veramente Fatta veramente bene questa nave Non so di Di che modpack fa parte Di quale modpack fa parte Ecco i blocchi ci sono però Che fai in delle piglie Direi Direi Bravo Altra poco cadevo Ok basta blocchi di iron Perché ne abbiamo presi a sofficienza Andiamo giù e vediamo che cosa c'è No da qua ci sono venuto Devo andare giù 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 qui Sento dei ragni Anche perché qui è capace Che mo' cominciano a spawnare le cose Per la notte Più che per Ecco qui sotto si va E probabilmente ci sono I mostri forse Più potenti Credo Ma questa che è bedrock Addirittura La nave di bedrock Ok E qui ci sono Ma che cazzo è Ma che cosa vuoi Ma cosa vuoi Ma muori Merda Vieni qua Muori No 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 Mi sono incastrato raga Mi sono incastrato Se Manco Che cazzo sta succedendo raga Sei incastrato Eh Sei buggato Oddio Meno male Sarà buggato il mondo Vabbè Io sono sceso giù Ma ho fame Quindi ho fatto una cosa Veramente brutta Brutta da fare E cioè scendere Senza avere Nel frattempo Sono già a livello 17 E questo mi fa molto piacere Perché Ah vedete qui Qui ci sono Le chest Con diamond leggings E golden boots Togliamo un po' di roba Anche se ho la legna Sinceramente mi interessa La grave Manco per niente Quindi queste si possono toglie Io il backpack Non me lo porto mai Perché sono un imbecille I diamond leggings Mi ripiglio Eppure i cloud boots Che non so se ce l'avevo messo io O meno Qui c'è della Moss Ah ci abbiamo Oh cazzo Oh cazzo Non ho Non ho capito Se si è Allora Qui bisogna fare Un piccolo lavoretto Perché altrimenti Qua cominciano Arrivamostri All'infinito Questa qui È una battle tower Raga Sei mischiata Una battle tower Ma brutto stronzo Ma brutto stronzo Pure tu brutto stronzo Sei mischiata Una battle tower Con Con la nave Cioè c'è una battle tower Assieme alla nave E non è che mi dispiace Perché voglio dire Sta roba Sai andai Ah vabbè Quella è la cosa Il sequel Back to screen Perché questa qua Adesso la chiudiamo però Oh madonna santa Eccolo Questo è il secondo piano Della battle tower Quindi questa è roba Che dobbiamo Chiudere Perché adesso Non entreremo nella battle tower Siamo qui L'unica cosa Mi servirebbe Un qualcosa Per riprendere Un po' di energia La paura mia È che se sta battle tower Si è mischiata Guarda da dove cazzo Stanno entra Oh oh E tu Come faccio a chiudere qua Non c'ho nessun blocco Ok Ci mettiamo una bella scala Ecco a posto Abbiamo risolto C'ho paura che qua giù Va a finire dentro la battle tower Però Vabbè Carbone Carbone Ferro a non finire Redstone Vabbè Redstone Possiamo anche evitare Perché ce n'abbiamo a Iosa L'iron però me lo piglio Il carbone pure Che è sempre utile Ok Qui non c'è nulla Qui si sale su Si sale su Verso Oh Pensavo si salisse su Invece si sale Cioè proprio In un'altra stanza Matton Bread Il bread me lo prendo Perché mi serve Ok Questo ce lo prendiamo Il resto non ce ne frega niente Questo lo facciamo fuori Vediamo qua Iron Emerald Può sempre tornare utile Perché questi cuori Mi girano attorno Ma non li prendo Ma c'ho qualcosa in meteorite No Ah magnetizzazione Ah perfetto Se me lo tolgo In teoria non mi girano più addosso E poi se me li rimetto Mi girano addosso Bene Ho dei cuori che mi girano addosso E la madonna Che cos'è questo Inquisition plate Bellissima Non so a cosa serve Ma è bellissimo Vabbè Togliamo questi Chain boots Non mi servono Allora Qui ci siamo già stati Si E' una parte della nave Quindi qua Scendiamo giù E continuiamo Da dove stavamo Qua intanto I pellicani Che rompono i coglioni Scendiamo ancora più giù Vediamo che cosa c'è C'è la parte bassa Della nave C'è la stiva Immagino si chiami La steve Ah Ok Battutaccia Questo che se ne stava andare Se ne stava andando Proprio dall'altra parte E c'è una chest Con il crack and shell Che è ancora Improviso il mobility When in water Questa si mangia Non so Presumo che si mangi Oh L'heal pad of fertility Fantastico Fantastico Quello lì ci serve Per i giocobini Guardate quante Quante torce Sembra 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 averla fatta io Questa Questo posto Con 30.000 torce Meteorite chestplate Non riesco a trovare Quei cazzo di Boots Porca zozza Cloud boots a non finire Mannaggia a me Quando non mi porto mai Il Allora Le enderpearl Mi dispiace però Ah ecco Togliamo le string E Niente Penso che sia finita ragazzi Beh Non male Non male Direi che Che non è male È abbastanza semplice Con un equipaggiamento Adatto Quindi secondo me Ce ne possiamo tornare Benissimo a casa Tra l'altro Ci siamo portati Appresso 25 livelli E con 25 livelli Riusciamo a riparare Se si muove Ok Riusciamo a riparare E anche ad Inchantare Un po' di robetta Vediamo un pochettino Che cosa mi conviene fare E secondo me Conviene riparare questa Conviene ripararla Dai Così almeno Risolvo il problema Cazzo Non si ripara Porca merda Questa si ripara Come cazzo la riparo questa Ma forse Devo metterci il coso Per riparare No Ah Questa è una brutta cosa E questi io mi ricordo Averli riparati però Vedi Questo si è riparato Questi qua No però Ma Misteri Vabbè Allora Dicevamo A sto punto Ci incentiamo la spada Con un bel po' di sharpness Cazzarola Però non ho abbastanza livelli Vabbè Intanto ci mettiamo Un bel po' di sharpness E adesso è diventata anche Sbrilluccicosa Guardate quanto è bella Quindi sharpness 3 Per una spada Che già rompe i culi Non è per niente male Poi vediamo un po' che cosa abbiamo preso Perché io sono andato a casaccio Allora i blocchi Di iron Sono qualcosa di fantastico Questa inquisition plate Vediamo un po' Bellina Fire protection 4 Tra l'altro Secondo me c'ha la Non so se c'ha la stessa protezione Perché qua non lo segna Non lo segna Voglio vedere una cosa però C'ho solo due livelli Che palle Questo è 0 Vabbè Ok Quindi potrei anche Continuarla a inciantare E secondo me mi conviene Mi conviene tenermi questa A sto punto Anche perché abbiamo visto Che questa qua Si rompe con una facilità Incredibile Mi dispiace solo che ecco Questo l'ho inciantato Però chissà se posso disinciantare Perché a sto punto Quell'equipaggiamento Della rio v Non è stato proprio il massimo Se faccio così Incianti in costo Meno Cazzo Fantastico Mi sono preso Mi sono ripreso i livelli Protection Non ci interessa I diamond boots No Non sono inciantati Questo l'avevo inciantata No E basta Quindi Aspetta Aspetta però Questi diamond leggings Hanno fire protection 1 E blast protection 4 E io a sto punto Li metto Così E li incianto Tolgo il fire protection Ah non lo posso Ah non posso disinciantarli Peccato Posso solo Aumentarlo Ma non Ok vai Unbreaking E intanto Questi già sono Unbreakingati E a sto punto Io mi cambio pure questo Perché Non mi sembra Proprio un granché Mi dispiace Perché dopo tutto Il culo che ci siamo fatti Allora Conviene farci il meteorite Respiration 3 Non so se conviene farci il meteorite Secondo me no Allora a sto punto Ci facciamo una bella Grafting table E con il diamante Ne abbiamo ben 79 Ci facciamo un bel Diadema di Sailor Moon Il diadema di Sailor Moon Ce lo mettiamo in testa E quindi niente Ci stiamo a fare L'armatura in diamante Bene Quindi questo qui Lo mettiamo qui Protection Lo mettiamo Al massimo E poi Unbreaking Ah cazzo Cazzo Unbreaking Non posso farlo Non fa niente Questi qua Non posso disinciantarli Sì Ah vedete Quindi si può fare Sto lavoro No Unbreaking Ah no 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 Non lo fa fare Vabbè Ok ragazzi Io direi che Ci possiamo anche fermare qui L'episodio vabbè Non è molto lungo Non abbiamo fatto Tantissimo Però ci siamo dati a Guardate quanti cazzo c'è noi Mi mancano i boots Vabbè Ci siamo dati comunque Un pochettino Al ladraggio Di quei cosi Abbiamo un miliardo Di questi Questo devo capire Cos'è Craft We tapped Make box Flint dust Reload Flint duster Io devo vedere se Ma duster Non è un Non è l'aspirapolvere Oh E tu che cazzo vuoi Ma non ti metti vergogna C'è vergognati proprio Allora Dicevamo Ma che è sta figata È bellissimo Raga Cioè posso minare A questa velocità Facciamo una prova No è fantastico No è fantastico No vabbè C'è raga Ho trovato la svolta Ho trovato proprio La svolta Allora aspetta però Devo capire una cosa No è bellissimo Questo Più magnetizzazione È il top Devo stare attento Con sto coso però Perché mi rompo tutta casa Allora Si chiama duster E ce ne sono più di uno Flint duster Ah carico e scarico Sarebbe Rally set Rally set blocks It is a dust coating Craft Flint dust to reload Cos'è la flint dust? La flint è questa La flint dust? Eccola qui Termite dust Devo vedere come cazzo si fa Forse ci vuole Il pulverizer Ma sai che ci vuole Il pulverizer Quindi adesso Studio un attimo Questa cosa Lapis coil Weakness Lapis block Redstone power Angry toxic Ok Devo capire come funziona Sto coso perché È una figata pazzesca E devo vedere Questa flint dust Come si fa Io credo che ci vuole Il pulverizer Quindi Adesso io mi studio Un pochettino la cosa E poi Vi fa sapere Cosa ho deciso di fare Intanto io poso Tutte queste cose Queste spade spettacolari Dopodiché Ritorniamo all'avventura Ci vediamo Al prossimo episodio